Io so qua perché ho una domanda, è una domanda che si chiedono tutti, è un po' che non lo vedo, ma come si è comportato? Ma malissimo si è comportato, malissimo. A Pasqua? A Pasqua benissimo. Oggi? Malissimo. A Pasqua? 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 Benissimo. Manca te sbaglio. Ma però gli piace. E lui chi è fondamentalmente? Perché lui era, sarà e resterà per sempre Mello di Roma. Eccolo, Cazzuscraio è partito, sta massacrando. Si divertono proprio. Eccolo. Eccolo. No, che so io. Uno stronzo con S grosso, quanto è quello lo spiegato? Addirittura? Fa sempre lo spaccone. Ma poi guarda a cincillare come sta. Ancora? Controlliamoci. Ancora fa lo spaccone. 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 Ancora fa lo